Ciao a tutti, qui è Triface che vi parla e come sempre stream e gioco a Summoner's War Chronicle. Vi ricordo che mi potete trovare in stream su Twitch, altrimenti potete continuare a vedere gli altri miei video sul mio canale YouTube. Se volete aiutarmi potete sempre iscrivervi o attivare la campanellina all'interno del mio canale. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!